ciao a tutti benvenuti o bentornati sull'angolo di saidori per il consueto video giornaliero questo video l'ho progettato programmato pensato un sacco di tempo fa fin da prima delle vacanze di natale perché sapevo già che avrei letto delle cose da mettersi le mani nei capelli dopo le feste di natale dopo le feste di natale ho detto vabbè no silvia non lo fare perché poi sembri quella che rompe le bowls diciamo mi ero trattenuta dall'idea di fare questo video e poi ragazze dopo la beffana è stata l'esplosione ho letto tante di quelle cose in rete sui forum su facebook su instagram che mi è salita veramente un angoscia una rabbia anche in un certo qual modo e quindi ho detto no questo video adesso lo faccio perché seppure servisse a far cambiare idea a una delle ragazze che mi guarda e che magari ha avuto questa pensata sarà valsa la pena di farlo non che io sia la buona samaritana ma per lavoro questo è un tema che evidentemente mi sta a cuore mi sono addirittura presa degli appunti perché ho tante idee che mi frullano in testa e tante cose che vi vorrei dire in merito a questa cosa e quindi ho detto vabbè vedrai che mi perdo inizio a parlare quindi mi sono presa delle idee allora innanzitutto durante le feste tutti abbiamo mangiato di più del solito chi più chi meno tutti ospiti dalle nonne dalle mamme zie che cucinano ci siamo strafogati ok va bene quindi il 6 gennaio scatta l'ultima mangiata della befana il 7 tutti in panico la palestra improvvisamente il 7 quando sono andata era strapiena e ci sta può anche andar bene è giusto va bene però ho letto dei post su facebook su instagram e anche da altre parti da oggi tutti a dieta soprattutto in certi gruppi dedicati all'argomento perdere peso eccetera eccetera da oggi tutti a dieta chi è a dieta teniamoci facciamoci forza postate sotto e ho letto delle robe tipo ragazze dai ce la sto facendo stamattina ho fatto colazione solo col caffè a pranzo mi sono mangiata solo l'insalata io a pranzo ho mangiato la carbonara ma ne ho mangiato solo 20 grammi gente che cuoce 7 penne 7 ho mangiato non ho mangiato solo una pallina di gelato quindi sono tot calorie roba da mettersi le mani nei capelli inizierò a dire una cosa che la dirò proprio nel modo più efficace probabilmente che è questa se io ti dicessi che mangiare poco fa male perché fare i digiuni non è una cosa salutare tu già lo sai ma questo dico tu tu la persona che magari hai deciso di fare una dieta ipocalorica così drastica spero che tante di voi che mi stanno guardando non la pensino così ma non se la prendano non mi sto rivolgendo a voi questo è ovvio mi sto rivolgendo a chi ha pensato di fare questa cosa devi sapere che questo ti fa male ma lo sai già perché questo non ti trattiene dal farla perché la tua idea è sì vabbè ok ma mi fa più male all'animo e al vivere sapere di guardarmi allo specchio di non piacermi o tanti che devo perdere ho esagerato mi sento in colpa mi sento una mer durante le feste ho fatto veramente di tutto di più e adesso quasi in modo punitivo fate delle diete super drastiche bene che ti fa male lo sai non te lo dirò ma ti dirò la cosa che invece ha più efficacia sulla tua decisione e cioè che tu stai facendo il primo grandissimo passo verso l'accumulo di tanti chili in più è il modo migliore per ingrassare come ti dirai faccio l'ipocalorica mangio poco perderò tanti chili vedrai ne ho la prova ho già visto delle amiche che hanno perso tanti chili vero probabilmente molto vero che è vero magari tu perderai tanti chili però attenzione la tua vita non è fatta di oggi faccio la dieta dura due tre mesi e poi ho perso i chili e dura altri magari anche un anno la tua vita è fatta di tanti anni e sai cosa ti succederà succederà che tu insegnerai al tuo corpo a immagazzinare a produrre grasso proprio sarà bravissimo perché il non mangiare come una scuola per il tuo corpo gli farà sentire la carestia la fame l'allerta l'allarme si metterà in modalità tutto ciò che introduci nel corpo io lo devo trasformare in grasso perché sennò muoio perché da quando si mangiava tanto e introducevano tante calorie nel corpo adesso questa persona che è quel colei che gestisce il mio corpo mi sta dando pochissime calorie quindi le poche che mi dà io le devo immagazzinare in grasso uno ragazze siete donne e il corpo ragiona in maniera atavica voi per il corpo avete una funzione importantissima che è quella della riproduzione quindi il vostro corpo entra in allarme ancor più di quello dell'uomo perché dovendo sostentare un'altra vita dovendo portare avanti l'eventuale gravidanza il corpo dice non ce la faccio devo avere delle riserve di grasso e in grassa quindi cosa succederà che voi praticamente innescherete questo meccanismo di insegnargli a diventare grasso sarà proprio la sua mira fondamentale quella di trasformare in grasso tutti i nutrienti che introdurrete e sarà sempre una rincorsa al mangiare meno se tornerete ad un regime normale con quel regime normale che magari una persona che non ha fatto l'ipocalorica reggerebbe tranquillamente non ingrasserebbe per voi sarà ingrassante se vi portate a mangiare 8 900 calorie al giorno quando andate a 1500 che magari è addirittura da fame per determinate persone per voi sarà ingrassante perché il vostro corpo trova delle tecniche per abbassare il vostro metabolismo basale e quindi abbassando il vostro metabolismo basale viene da sé che dopo quando gli introdurrete di nuovo le calorie normali quelle saranno troppe il metabolismo basale è il tot di calorie che è necessario al corpo diciamo per svolgere le funzioni primarie fondamentali no e questo metabolismo è di un tot ma il corpo quando vede che riceve poco cibo riesce con degli escamotage non andiamo sul tecnico ad abbassare questo metabolismo basale quindi se voi per fare dei numeri per farvi capire mangiate 1500 900 li avete di metabolismo basale quindi li consumate per il solo fatto di esistere di vivere di respirare di stare proprio alle funzioni vitali base far battere il cuore eccetera altro mettiamo 400 li consumate per le attività di tutta la giornata le camminate il lavoro eccetera avanzano 100 quei 100 sono in più e quindi quelle 100 calorie verranno trasformate in grasso e questa magari è la situazione di adesso che ne mangiate 1500 se voi vi portate a mangiarne 900 cosa succederà che per il corpo che vedrà che avete introdotto addirittura meno calorie di quelle che gli servono per vivere abbasserà il metabolismo basale per sopravvivere quindi avete uno scarto maggiore quando dopo tornerete a reintrodurre le 1500 il metabolismo basale non sarà più di 900 magari sarà di 700 e quindi avrete uno scarto di altri 200 sommati e 100 di prima 300 che diventeranno grasso quindi mentre prima con 1500 calorie avevate uno scarto di 100 e solo 100 calorie diventavano ciccia adesso ne avete 300 che diventano ciccia allora voi rifarete un'altra dieta e così via pian piano dovrete sempre abbassare il quantitativo di calorie ingerite per non ingrassare è una rincorsa al mangiare sempre meno ma siccome questo meccanismo non è mantenibile nel tempo perché nessuno dura con delle diete così drastiche per più di uno o due mesi poi dopo per forza tornate a mangiare normalmente anzi vi abbuffate perché sfido chiunque ad uscire da queste diete drastiche e a non dire adesso mi mangio il frigo e tutto il mcdonald insieme è normale uscite affamatissime il vostro corpo che invece in modalità risparmio prenderà tutte quelle calorie e dirà wow è arrivato del cibo devo assolutamente trasformarlo in grasso perché da un momento all'altro si potrebbe tornare al regime restrittivo dove non dove mi entrano 800 calorie se tutto va bene quindi lo trasformo in grasso devo fare scorta devo fare scorta insegnate al vostro corpo a diventare una macchina perfetta produttrice di grasso quindi ragazze non fate questa cosa allora voi direte ma come faccio sono in sovrappeso devo assolutamente fare qualcosa per perdere questi chili e io ti risponderò cambia vita una volta per tutte purtroppo il mito del faccio la dieta stringo i denti per un po' di tempo per due chili e poi torno ad essere a mangiare normale e non esiste quel mangiare normale che prevede mangiare i dolci che prevede mangiare schifezze che prevede mangiare al mcdonald come regola di vita ti porterà solo e soltanto sempre a mettere chili di troppo sempre e poi dovrai rifare un'altra dieta risballerai ancora il metabolismo sarà sempre un gioco al ribasso nel senso che dovrai mangiare sempre meno per non ingrassare la famosa amica che dite quella lei mangia di tutto e non ingrassa io bevo un bicchiere d'acqua in grasso è perché voi avete educato il vostro corpo a reagire in quel modo educate il vostro corpo a non reagire in quel modo mangiando qualitativamente bene quindi non è fare una dieta ipocalorica che risolverà la vostra vita anche un pochino di restrizione calorica giustamente se nelle feste avete portato la vostra dieta a 4000 calorie al giorno perché giustamente le lasagne della nonna i manicaretti della zia eccetera e adesso vi dovete portare magari ad un regime più normale ma non restrittivo da fame mangiate semplicemente qualitativamente bene eliminate i dolci eliminate le schifezze non andate ogni sera a mangiare al mcdonald non mangiatevi il dolce ogni dopo pranzo non fate colazione soltanto con biscotti, marmellate, queste robe qua mangiate bene dove bene significa abbandonate i cereali troppo raffinati mangiate la frutta, la verdura, i legumi i cereali al lento rilascio quindi quelli che hanno un basso indice glicemico il farro, l'orzo, il riso basmati, il riso integrale, la pasta integrale cucinatela in maniera semplice con le verdure mangiate i legumi fate le zuppe di legumi mangiate il pesce azzurro mangiate la carne magra mangiate le uova mangiate la frutta con moderazione perché è molto zuccherina una volta che voi avrete eliminato tutte le schifezze della dieta e starete mangiando qualitativamente bene vedrete che è difficile sforare anche con le calorie perché è molto semplice raggiungere quote caloriche altissime mangiando le vaschette di gelato hanno tantissime calorie ma se voi mangiate il cibo vero il cibo sano il cibo che va cucinato il cibo non preconfezionato se voi bollite i vostri cereali ci aggiungete le verdure fatte semplicemente stufate con l'acqua con l'olio a crudo e poi mangiate la vostra fetta di salmone il vostro trancio di spada il vostro petto di pollo alla piastra con una bella insalata di contorno vedrete che sarete sazie ma controllando le calorie saranno magari la metà della metà di quella della vaschetta di gelato capite? quindi la fame non la fate assolutamente per quello quando le persone mi dicono che volontà hai a mangiare così è quanto deve essere difficile non è difficile affatto credo che sia molto più difficile per una persona stare a dieta a stecchetto con quelle diete che io dico ma come fai a vivere con una foglia di lattuga uno yogurt a pranzo una pallina di gelato ma muori di fame come si fa a resistere a morire di fame? io non muoio mai di fame se tu pensi che la dieta che seguo sia difficile da mandare avanti non è vero perché ci devi provare mangi un sacco di cibo semplicemente cibo giusto cibo che viene lavorato e metabolizzato nel mio corpo in maniera diversa dal cibo schifezza 100 calorie non sono uguali sempre 100 calorie di gelato non lavorano nel tuo corpo come 100 calorie di riso il riso ti sazia molto di più 100 calorie di riso sono molto più sazianti non ti fanno avere picco glicemico ti tengono la fame a bada per un bel po' di ore 100 calorie di gelato dopo 3 minuti hai di nuovo fame ti mangeresti il mondo e soprattutto hai sbalzato la glicemia hai fatto scattare l'insulina che è praticamente un ormone ingrassante per eccellenza hai creato insomma un qualcosa all'interno del tuo corpo che è ben diverso da quando mangi bene ok? quindi la caloria è l'ultima delle cose di cui tu ti devi preoccupare non che non sia affatto importante ma l'ipocalorica crea un meccanismo per cui tu ti preoccupi soltanto del quantitativo delle calorie ingerite non ti preoccupi mai di ciò che mangi quindi continui a mangiare malissimo ma semplicemente in quantità irrisoria è sempre un errore perpetrato nel tempo un errore alimentare ridotto ai minimi termini nel senso di quantità di calorie ma è sempre un errore mangiare il gelato come pasto è un errore perché non contiene tutti i macronutrienti è pieno di grassi pieno di carboidrati privo quasi di proteine quindi non va bene semplicemente ne mangi poco e dici beh ma a livello calorico ho mangiato solo 100 calorie poi 100 di qua 100 di là fino a giornata 800 ma hai mangiato 800 calorie di schifezze magari e hai mangiato troppo poco per cui inneschi quel famoso meccanismo che abbiamo detto ok? quindi la soluzione è iniziare a mangiare qualitativamente bene a cercare di ingerire tutti i macronutrienti che sono tutti necessari perché tu stia bene non puoi pensare elimino i carboidrati elimino non eliminare nulla perché se la natura ha creato il corpo è tranquilla che l'ha creato come una macchina perfetta è perché al corpo servono tutti i macronutrienti carboidrati proteine e grassi e tu non puoi far niente per cambiare questa legge perché il corpo è una macchina perfetta e noi che non lo conosciamo affatto non siamo nemmeno dei medici per poter fare delle manipolazioni di questo tipo non possiamo pensare di fregarlo togliendo tolgo i carboidrati così lui così no perché quando tu levi i carboidrati devi sapere che c'è un meccanismo nel corpo che si chiama gluconeogenesi se non mi ricordo male per il quale praticamente lui si crea addirittura i carboidrati partendo dalle proteine facendo delle scissioni per cui ti va a creare i carboidrati quindi non fare sciocchezze mangia i macronutrienti mangiali tutti ad ogni pasto sceglili di ottima qualità ti lascio in info box degli articoli su come fare la spesa su come è importante scegliere determinati tipi di nutrienti come sceglierli perché sceglierli perché sono importanti tutti non eliminare ne alcuno non fare la guerra ai carboidrati non fare la guerra e grassi assicurati di avere un buon quantitativo proteico nella tua dieta e vedrai che le cose cambieranno mi guardo gli appunti perché sono certa di essere andata a rota libera come al solito ecco questa è una cosa che mi sono segnata le persone che non hanno un determinato un rapporto di questo tipo col cibo sono sempre infelici nel rapporto col cibo perché sono infelici quando sono a dieta ovviamente perché chi non lo sarebbe mangiare due foglie di lattuga e sono infelici quando sgarrano perché si sentono in colpa e si sentono sbagliate non sentirti sbagliata se seguirai un'alimentazione con i macronutrienti giusti mangiando le giuste fonti alimentari ed essendo sempre bella sazia quando una volta al mese una volta alla settimana dipende anche dalla tua condizione di partenza ovviamente se devi perdere tanti chili o meno ma lo sgarro sarà sempre consentito giustamente se devi perdere tanti chili non puoi sgarrare una volta alla settimana mangiando schifezze dalla mattina alla sera assumendo 10.000 calorie perché poi è inutile che gli altri giorni sei stata ligia e in quel giorno hai mangiato 10.000 calorie di schifezze quindi quantitativamente qualitativamente pessime perché è normale che poi i risultati non li otterrai ma nulla ti vieta nell'alimentazione che non ti farà patire la fame quindi in una giusta alimentazione con tutti i macronutrienti una volta tanto di concederti la pizza il panino schifezzoso il gelato non succede nulla certo non puoi fare H24 a mangiare schifezze però quando entrerai in questo tipo di ottica vedrai che ti godrai sia la tua dieta giornaliera perché mangerai del cibo vero del cibo buono del cibo saporito del cibo abbondante del cibo vero ritroverai i veri sapori le verdure i legumi la carne il pesce i carboidrati buoni perché ti mangerai magari un bel piattone ok non la dieta da fame e starai bene e nel giorno in cui farai lo sgarro starai bene perché ti gusterai lo sgarro non ti dovrai sentire in colpa anzi dovrà essere un oggi mi mangio il gelato domani ritorno nel mio range normale perché non è lo sgarro ogni tanto che fa ingrassare la regolarità dello sgarro quindi tu avrai una regolarità nel mangiare bene ogni tanto sgarrerai lo faccio anch'io lo fanno tutte le persone che altre persone credano che non lo quelle persone che voi credete che non lo facciano mai diciamo che bel corpo che hai gli addominali scolpiti glutei magri le gambe toniche anche loro sgarrano poco ogni tanto non tutti i giorni ovviamente però agli altri giorni non muoiono di fame attenzione io mangio sette volte al giorno sette pasti divisi nella giornata e non ho mai fame non sono mai col pensiero al cibo con il languore con l'angoscia che mi metterebbe a dover fare una dieta terribile come quelle che levo non ho parlato come vedi ho accennato a mangiare tipo ho detto il trancio di salmone la carne questo era un video genericamente rivolto agli onnivori non vuol dire che non si possa fare una scelta differente che io rispetto quella dei vegani quella dei vegetariani ma attenzione se vuoi fare una scelta di questo tipo non lo fare per moda come quelli che levano il glutine non essendo celiaci oppure lo fanno perché pensano che essere vegani faccia dimagrire o essere vegetariani faccia dimagrire anche un vegano e un vegetariano in grassa anzi forse anche più a rischio perché se indiscriminatamente non sapete quello che state facendo finirete per ingurgitare solo carboidrati e non avere la giusta quota proteica i vegani che sanno quel che fanno i vegetariani che sanno quel che fanno e che si sono informati sanno fare le associazioni tra i vari gruppi alimentari tra le varie categorie di cibo in modo da ottenere la massima diciamo performance dalle categorie alimentari che assumono e quindi sanno ottenere delle catene aminoacidiche complete perché le proteine vegetali non hanno delle catene aminoacidiche complete ossia certi alimenti vegetali hanno determinati aminoacidi altri ne hanno altre e soltanto combinandole insieme fra di loro si ottiene una catena aminoacidica completa che può appunto aiutarvi nell'assumere la vostra corretta quota proteica quindi assolutamente scelta da non demonizzare tutt'altro anzi hanno tutta la mia ammirazione a livello morale a livello etico e per le motivazioni etiche per cui certe scelte vengono fatte dal punto di vista alimentare questo vuol dire che dovete informarvi anche perché un atteggiamento pressa pochista nell'approccio alla disciplina vegana e vegetariana butta anche cattiva luce e discredito su chi lo fa in maniera diciamo ragionata spessissimo conosco ho conosciuto moltissimi vegani vegetariani che ne sanno tantissimo di alimentazione perché si sono correttamente informati mentre questo accade molto meno nelle persone che sono onnivore quindi se volete abbracciare questa scelta fatelo con coscienza informatevi studiate capite cosa sono i macronutrienti e così riuscirete a fare una scelta consapevole altra cosa l'ho già accennato durante il video è molto facile abbuffarsi di carboidrati i carboidrati sono ovunque quasi tutto quello che mangi e quello che mangi soprattutto fuori casa è sempre carboidrato è sempre di pessima qualità purtroppo l'uomo moderno con l'evoluzione che potrebbe anche essere chiamata involuzione da un certo punto di vista ha perso diciamo la capacità di alimentarsi con il cibo vero l'ha raffinato vedete la questione delle farine praticamente un tempo i poveri mangiavano il pane nero salutare e i ricchi si mangiavano il pane bianco oggi tutti mangiano il pane bianco e anzi il pane bianco costa meno del pane magari integrale il pane nero e se andate a prendere cereali non raffinati li pagate di più mangiare addirittura integrale mangiare farro costa di più della pasta di pessima qualità che vi tirano dietro tutto quello che mangiate fuori casa è carboidrato di pessima qualità focaccine pizzette la roba del mcdonald i panini del mcdonald è tutta roba pessima tutte le volte che volete mangiare fuori casa vi verrà proposto di mangiare qualcosa tipo al bar o degli snack sono sempre pessimi i carboidrati con l'aggiunta di un sacco di zucchero tanti grassi terribili saturi e quindi non riuscite veramente a fare degli snack fuori casa quindi è molto importante che invece voi vi abituate a fare una giusta spesa e appunto vi lascio un articolo in merito a comprare le giuste categorie di alimenti a cucinare la persona che mangia bene spesso e volentieri si deve portare dietro la schiscetta se no è veramente difficile mangiare correttamente fuori casa e questo volevo dire appunto me lo sono appuntato ho scritto carbo è facilissimo ingurgitare quelli di pessima qualità in merito e ve la butto lì come spunto ulteriore sappiate anche che mangiare tanti carboidrati e quindi tanti zuccheri soprattutto vi fa anche invecchiare ragazze perché per un processo che si chiama glicazione che se volete appunto anche qui avete l'articolo dove vi spiego bene 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 di cosa si tratta purtroppo le persone che hanno mangiato molti zuccheri che mangiano molti zuccheri tendono a invecchiare prima proprio per il processo di glicazione non mi posso trattenere qua spiegarvelo ve lo lascio in info box vi lascio l'articolo quindi quello che volevo dire è che mentre vi raccomando di inserire nella vostra dieta carbo di buona qualità quindi carbo integrale non raffinati basso indice glicemico i cereali tornate ai cereali di una volta mangiate i legumi mangiate la verdura questi sono i carbo giusti eliminate tutte le altre schifezze e tutte le cose confezionate processate impacchettate se è impacchettato è praticamente quasi sempre no buono quindi per i carbo non mi raccomando che voi ne aggiunciate ne ingeriate scusate una buona quantità perché sulla quantità non ho dubbi ma appunto a parlarvi della qualità sulle proteine invece vi dico anche occhio alla quantità la maggior parte di diete sono pressoché prive di proteine tutte le volte che chiedo a una persona che inizia ad allenarsi con me cosa mangi mi fa un elenco di carboidrati 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 le proteine non arrivano mai sono previste in quantità irrisorie e invece sono importantissime per tantissime funzioni la funzione è plastica di costruzione le cappelle le cellule la pelle noi siamo fatti di proteine quindi è importantissimo ingerirle ma anche per il dimagrimento anche per alimentarsi correttamente è importante che assumiate la giusta quota proteine ricordatevi che esiste una cosa chiamata azione dinamico specifica ads o tid termogenesi indotta dalla dieta che non è nient'altro in pratica detto in soldoni che il fatto che quando voi ingerite un cibo il vostro corpo deve lavorarlo lo masticate lo mandate praticamente nello stomaco lo stomaco lo sminuzza bla 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 lo lavora per fare lo trasforma lo manda nel sangue bla 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 insomma è ovvio che il nutriente da mela pera bistecca pesce deve diventare qualcosa che il nostro corpo può lavorare trasformare in energia ok per fare questo è ovvio che c'è un dispendio calorico cioè il nostro corpo consuma delle calorie per fare sta cosa ma consuma sempre le stesse calorie sia che io mangi carne pesce verdure frutta no quando noi mangiamo le proteine un minimo di un 20% fino ad un massimo di un 35% delle calorie ingerite viene utilizzato per lavorare l'alimento quindi che so 100 calorie di pesce fino al 35% di quelle 100 calorie di pesce quindi fino a 35 calorie di 100 ingerite vengono utilizzate per lavorare lo stesso per lavorare l'alimento stesso che abbiamo ingerito quindi in realtà di assimilato c'è 100 meno 35 ok quando invece andate a mangiare un carboidrato ricordatevi che di 100 calorie ingerite di carboidrato per l'azione dinamico specifica o TID soltanto il 5 massimo 10% di quelle calorie viene utilizzato per lavorare l'alimento e quindi se voi mangiate 100 al massimo 10 calorie quindi il 10% vengono utilizzate quindi 100 meno 10 90 mentre prima era 100 meno 35 ok addirittura questa percentuale scende ancora coi grassi coi grassi al massimo il 5% un minimo di 2 un massimo del 5% viene praticamente utilizzato dal corpo per lavorare i grassi quindi 100 calorie di grassi e soltanto 5 calorie vengono utilizzate per al massimo potrebbero essere anche solo 2 calorie per lavorare quelle 100 calorie quindi capirete che 100 calorie non sono sempre 100 calorie una calorie insomma un tot di calorie non vale sempre nello stesso modo se sono di proteine ci sarà un'azione dinamico specifica con una percentuale più elevata meno ancora con i carboidrati meno ancora con i grassi per cui praticamente è ovvio che anche la ripartizione dei macronutrienti conta e conta tantissimo per cui se nella vostra dieta è completamente assente la quota proteica è ovvio che avrete un'azione termogenica indotta dalla dieta molto più bassa che se non divideste la vostra quota di calorie introdotte correttamente tra carboidrati proteine e grassi io spero di avervi dato un panorama che vi distoglie cioè questo non vuole essere la soluzione a tutti i vostri problemi perché io lo so che magari molte di voi mi stanno guardando e hanno tanti chili da perdere e dicono eh vabbè detta così è facile è vero che detta così sembra facile però questo vuole essere solo un distoglierti da fare una ipocalorica drastica dove mangeresti due foglie di lattuga ti prego non mangiare due foglie di lattuga vai al market metti la monetina nel carrello e compra cibo sano riempi il carrello di verdure della più colorata e la più bella quella che ti piace di più i peperoni non lo so i pomodori le carote compra tanti cereali giusti integrali da cucinare semplicemente un pasto guarda non lo faccio mai un pasto tipico potresti fare che so il riso integrale spadelli delle verdure semplicemente aggiungendo dell'acqua e delle spezie un po' di cipolla un po' d'aglio se ti piace del basilico del timo maggiorana cucinale come meglio ti ispira senza aggiungere che so dadi troppo olio far soffritti farle cucinare in maniera semplice assapora il gusto delle verdure poi magari alla fine aggiungici un filo d'olio crudo quando scolerai il riso integrale aggiungici queste verdure e fai un bel piatto di riso caldo con le verdure per secondo mangia dell'altra verdura magari cruda ti piacciono i finocchi in insalata o dei bei pomodori con un filo d'olio d'oliva extravergine del basilico e poi una bella porzione di proteine una bella bistecca alla piastra oppure un petto di pollo oppure delle uova strapazzate o del salmone o dell'altro pesce che ti piace fatto semplicemente al forno io per esempio prendo il salmone e lo faccio semplicemente in padella senza aggiungerci niente neanche un filo d'olio perché il grasso del pesce permette di cuocere benissimo la pietanza ovviamente queste fonti proteiche devono essere alternate non puoi mangiare tutti i giorni la carne rossa né tutti i giorni la carne alterna le uova gli albumi il pesce impara ad abbinare i legumi con i cereali in modo da ottenere delle proteine vegetali che abbiano delle catene aminacidiche complete ma assicurati ogni giorno di avere la tua fonte proteica i tuoi carboidrati sani che devono provenire in massima parte da legumi e verdure fresche una quota di cereali e vedrai che veramente poi mi darai ragione la tua vita cambierà non patire la fame mangia colorato mangia di gusto mangia cibo sano purtroppo lo so dovrai abituarti a fare la spesa e a cucinare queste due cose non posso garantirti che non le dovrai fare anzi le dovrai fare sempre dovrai sempre cucinare e dovrai sempre fare un'ottima spesa perché la base per non mangiare delle schifezze è non comprarle e quindi sì dovrai imparare un po' a cucinare a organizzare i tuoi pasti spero davvero di esservi stata utile anche se solo una di voi rinuncerà a questa cosa della dieta drastica sarò contenta vi mando un bacio ci vediamo domani con un nuovo video ciao